come una responsabilità anzi la vivo come un cioè noi ce l'abbiamo io trovo che se ti trovi a scrivere canzoni e sei di di genova respiri un po questa roba ce l'hai già perché vedi di tutto io poi sono di una zona abbastanza centrale ho giocato a rugby tanti anni ed è stata un'esperienza che mi ha portato a conoscere gente di tutti i tipi tutti i quartieri lo spogliatoio come le medie forgiano gli uomini non lo smetterò mai di dire verissimo quindi ti dico non la vivo con un peso di qualche tipo certo voglio rappresentare voglio essere importante per la mia città voglio arrivare a questa cosa c'è gente che l'ha fatto prima di me va arrivati e io da subito super fan cioè mi hanno spronato anche loro a fare le cose quindi non tanto responsabilità più dire ho qualcosa in più devo sfruttarlo bene ok questo è il mio viaggio bella un po da sì forse un po me la sto un po tirando